Sotto l'incerto lume di lampade languenti, su profondi cuscini impregnati d'odore, Ippolita sognava le carezze, possenti che toglievano il velo al suo fresco candore. Lei cercava lo sguardo scosso dalla tempesta, il cielo già lontano dai semplici costumi, simile al viaggiatore che rivolge la testa all'azzurro orizzonte che il giorno già consuma. Dagli occhi persi, lacrime che scendevano lente, l'aria spezzata, attonita ed un'obliqua ebrezza, le braccia, armi disutili, abbandonate, vinte. Ogni cosa esaltava la fragile bellezza, e distesa ai suoi piedi, colma di gioia, quiete, Delfina la covava con uno sguardo ardente, come un forte animale che sorvegli la propria preda, dopo averla segnata col marchio del suo dente. Negli occhi della vittima cercava quella muta canzone che il piacere va sempre modulando, e quella gratitudine sublime, smisurata, che sgorga dalle lacrime come un sospiro fondo. Ippolita, amore mio, ma tu di queste cose che dici? Tu sai certo che non bisogna offrire l'olocausto sublime delle tue prime rose a quei venti impetuosi che le fanno appassire. I baci miei leggeri somigliano alle effimere che la sera carezzano, i laghi trasparenti, i baci del tuo amante scavano tracce simili a carreggiate, assolchi di vomeri taglienti, passano sopra te come se fossero buoi, o cavalli, o zoccoli ferrei, senza pietà. Ippolita, sorella, rivolgi gli occhi tuoi, anima mia, mio tutto. Rivolgimi i tuoi occhi di stelle e azzurro cielo colmi per uno sguardo che è balsamo divino, dal piacere più oscuro solleverei il velo e ti farei cadere in un sogno senza fine. Forse abbiamo commesso un che di strano estremo, spiega, se puoi, quest'ansia e questo turbamento, se, angelo mio, mi dici io, atterrita, tremo, eppure la mia bocca ti cerca, questo sento. Sia sempre maledetto il sognatore futile che per primo pretese, sciocco, proseguitore di una questione sterile, del tutto insolubile, di mischiare l'onestà col mondo dell'amore. Quaggiù solo un padrone è dato servire, ma la fanciulla, scossa da un acuto dolore, gridò di colpo, sento in me un abisso aprire il tuo infinito spazio, e questo abisso è il mio cuore, come il vuoto e profondo arde, come il volcano. Niente potrà saziare questo mostro che langue. Flagellati dal vento di questa morte, ombre, folli, correte in fondo al desiderio, non riuscirete mai a placare il furore, e il castigo per voi nascerà dai piedi. Né mai un chiaro raggio verrà in quella caverna. Crepe di muri filtrano, fanno fiamme simili a delle lanterne, i vostri corpi impregnano dei loro ardori impuri. L'aspra sterilità del vostro godimento rende acuta la sete e la pelle risecca. Lontano dalla cerchia dei viventi, correte come i lupi deserti, erranti, condannate sull'onda del destino. Anime irrequiete, fuggite l'infinito che dentro di voi portate. Lontano dalla cerchia dei viventi, correte come i lupi deserti, ombre, 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 ombre. Zanzara d'inchiostro, siamo il tuono d'un tempo che si è fermato a pregare. Ben ritrovati gentili telespettatori, questo era Baudelaire, questa era Donne dannate, dedicato ad un amore diverso, fra due fanciulle che illo tempore non si potevano amare. Porterò questo tema e lo approfondirò stasera a Zanzara d'inchiostro, questa è la decima puntata tra l'altro, ed è un viaggio con la poesia di parecchi autori, più avanti scoprirete cosa intendo, ed è una poesia particolare quella di Baudelaire, perché quando uscì Fiori del male nel 1857, almeno la prima edizione, alcune poesie vennero fatte eliminare, vennero tolte, perché compromettevano quella che allora era la cosiddetta morale pubblica, e Donne dannate è una di queste, perché è un amore vero, è un amore carnale, noi spesso pensiamo sempre al desiderio, all'amore come qualcosa di irraggiungibile, o lo idealizziamo, però a volte l'amore è anche qualcosa di più semplice, è un desiderio naturale, l'uomo in quanto animale cerca, diciamo, questo accoppiamento, questa sorta di furore che viene descritto nei versi, poi dal poeta francese, poeta maledetto, tramite poi quella che era la sua poesia, una poesia che ti portava prima all'inferno, poi risalivi in paradiso, è atroce, è dolce, è suave, è sensibile, ma allo stesso tempo è anche cruda, è anche difficile da digerire, questa poesia che fa parte dei relitti, sono otto le poesie che a suo tempo furono incriminate, ed è una delle più rappresentative, perché funge un po' una sorta di spartiacque tra la poesia antica e la poesia moderna, poesia moderna che poi Baudelaire nell'Ottocento è riuscito a portare fino ai giorni nostri, e sembra sempre più attuale, perché poi la poesia dell'autore francese non era una poesia semplice di lettura, ma non era neanche una poesia senza impegno, aveva un impegno civile molto forte, aveva l'impegno che era quello di denudare le criticità della quotidianità e della vita di tutti i giorni, ed è una cosa che poi ci siamo portati avanti col tempo, che chiaramente va contestualizzata, perché sono cambiate molte cose, e per farvi, diciamo, intravedere questa contestualizzazione io vi vado a leggere un'altra poesia di Baudelaire dei Fiori del Male, sempre della sezione dei Relitti, che secondo me è lampante come significato, e si chiama I gioielli. La mia amata era nuda, leggendomi nel cuore solo i gioielli aveva tenuto, ed il sontuoso apparato le dava quell'aria di fulgore che hanno le schiave dei mori nei giorni luminosi, lo strepito pungente che sale dalla danza e il raggiar di metalli e pietre mi conduce nell'estasi. Lo so, io mi innamoro a oltranza delle cose in cui il suono si mescola alla luce. Era dunque sdraiata e si lasciava amare, dall'alto del divano felice sorrideva al mio amore, profondo e dolce come il mare, che a lei saliva ondoso come ad una scogliera, gli occhi su di me fissi come tigre, l'aria vaga, sognante, cambiava posa e provava, il candore congiunto ad un che di gioco, alle sue metamorfosi, dava un fascino nuovo, e le braccia, le gambe, le cosce, i reni, che erano lisce come l'olio, morbide come quelle di un cigno, prendevano i miei occhi tutti intenti, sereni, e intanto il seno, frutto della mia vigna, amorevole più degli angeli del male, mi turbava l'anima, che era tutta assopita, la sbalzavano via dal cristallo regale, dove lei solitaria se ne stava, quieta. Parevano congiungersi in un nuovo ritratto, le anche dell'antiope, e il busto di un imberbe, poiché la forma dava al bacino risalto, sui toni fulvi e bruni il farde era superbo, già la lampada si era rassegnata a morire, solo il camino ardeva dentro la stanza in ombra, e quando dalla fiamma scoppiettava un sospiro, inondava di sangue quella sua pelle d'ambra. Questa, come vi dicevo, era gioielli, anche questa, diciamo, con un tema abbastanza riconoscibile, perché poi, al di là di questo continuo gioco sinuoso, quasi diversi, del poeta maledetto, c'è una cosa che gli altri poeti non hanno avuto rispetto a Baudelaire, che era questo unire un aspetto, anche semplice, come può essere l'amore carnale, a quello che poi il poeta, l'io poetico cercava, cioè l'assoluto, la bellezza in qualsiasi cosa. Certo, trovare la bellezza nella caotica Parigi del 1850 non è semplice, non è semplice anche perché Parigi è sempre stata un po' la capitale culturale del mondo, sono passati i migliori artisti per Parigi, così come per Roma, e identificare questa città, anche prenderne le sfaccettature negative, è stata una delle cose che condannò poi il nostro buon Baudelaire. Io per chiudervi questo piccolissimo viaggio e prima di lanciarvi un video di riflessione, non solo, vi voglio leggere l'ultima poesia del nostro autore francese, l'ultima poesia che invece non fa parte dei Relitti, ma fa parte dei quadri parigini, e si chiama A una passante. A una passante è una delle prime poesie in assoluto che ho letto di Baudelaire, e penso che sia anche una delle più studiate, per il semplice fatto che è stata scritta, a parte che è stata scritta in pochissimo, e lui lo specifica poi in quello che sarà il suo ultimo libro neanche terminato, cioè gli ultimi scritti, ma è una di quelle poesie che l'amore puro di getto ti fa scrivere. La strada era assordante, urlava tutti intorno, esile d'alta, il lutto, regina dolorosa, una donna passò, con la mano fastosa sollevando il vestito, di trine e balze adorno, leggera, nelle gambe, una scultore a grazia, negli occhi suoi, cielo, ove cova l'uragano, bevevo come quello che è fatto sesso e strano, la dolcezza che ti incanta, il piacere che strazia, un lampo, poi la notte, bellezza fuggitiva, che con un solo sguardo la vita mai ridato, non ti vedrò più e dunque, che nell'eterna riva, altrove, in lontananza e tardi, o forse mai, non so dove tu fuggi, tu non sai dove io vado, io t'avrei certo amato, e tu, certo, lo sai. Tra l'altro, molto più breve, anche così come prima impressione, rispetto alle precedenti, tra l'altro, ho preso io l'iniziativa di tagliare Donne dannate, perché è una poesia molto molto lunga, che descrive insomma l'atto in tutte le sue sfaccettature, anche nei particolari più profondi, ma per esempio ad una passante, è ciò che fa capire cosa sia effettivamente la poesia, perché la poesia non è per forza di cose, è frutto di studio, a volte è semplicemente un istinto, è semplicemente il voler gettare su carta un'idea, certo, un'idea un po' più complessa, diciamo, rispetto a un semplice testo, perché il semplice testo può essere scritto in maniera tranquilla, corretta, anche con le virgole e con i punti, la poesia invece è diversa, la poesia deve avere una sua musicalità, una sua sonorità, ecco, la grandezza del nostro Baudelaire sta in questo, nel descrivere con un atto semplicissimo, uno sguardo, con una donna che passa per stata, che può essere, una donna capitata lì, per fatto o meno, questo poi bisogna crederci, ma è una donna che, al cui posto poteva stare chiunque, e invece quella donna è stata fonte di ispirazione, è stata fonte di ispirazione per scrivere poi una delle poesie più rappresentative, come dicevo prima, più studiate, e forse quando ci chiediamo che cos'è il talento, che cos'è il genio, e ci vogliamo dare per forza di cose una risposta, io penso che molto spesso non ci sia bisogno di questa risposta, perché non c'è genio senza una buona dose di follia, e questo lo diceva Aristotele, ma è riscontrabile poi in tantissimi altri grandi geni, che per fortuna hanno vissuto quest'umanità e non solo, io dopo questa prima parte vi faccio vedere un video, e vi riporto alla mente un ospite della prima puntata di Zanzara d'Inchiostro, visto che stiamo chiudendo un po' questo cerchio, con la decima puntata di oggi, vi faccio ascoltare e vi faccio vedere soprattutto Antonio Di Lorenzo, noi ci vediamo tra pochissimo, sempre su Teleprima, canale 91. Ti amerei chiedendoti di parlarmi di Londra, stesi su un prato umido in pieno sunbathing, perché meriteresti un amore che ti faccia brillare, light in the spark of your bonfire, saresti allora armonia cosmica, endless rain into a paper cup, saresti across the universe in viaggio verso la stella polare, tutto questo espresso attraverso i tuoi occhi verdi, come si illuminano i miei quando ascolto la canzone di Molly Malone, e mi ricordo della linda ciudad di Dublin, la Belleville de Dublin, in Dublin's fair city, where the girls are so pretty, e ogni volta che la rivedo, mio cugino sbaglia l'attacco dell'ultima strofa, Alive, alive, oh, again, and again, alive, alive, oh, again, and again, the Italian guy is pretty wasted. Ma forse, forse anche questa è un'altra forma d'amore, a meno che tu non conosca quel che accade quando parli per tre ore con una donna dinanzi ad un caffè, e non le guardi i segni e le scarpe neppure una volta, e ritorni a casa che neanche ricordi come fosse vestita, ma la sua voce, ma il suo sguardo, fixed upon what? Impressi nelle tue retine, per sempre. Oppure, se conoscessi un altro modo per definire quando canti con Peter Sarsted nel tuo giradischi, di Marie Claire e dei Backstreet of Naples, you talk like Marlena Dietrich, and you dance like Zizi Jean-Mère, e davvero, davvero vorresti sapere, where does she go her, your lovely, dove va lei, la tua amata, quando è da sola nel letto. Mentre discendevo lungo fiumi impassibili, sentii che i bardotti non mi guidavano più, dei pelli rossa urlanti li avevano presi per bersagli, inchiodandoli nudi ai pali variopinti, trasportavo grano, fiammingo o cotone inglese, e non mi importava ad avere un equipaggio. Quando insieme ai bardotti si spensero i clamori, i fiumi mi lasciarono scendere dove volevo, fra i furiosi delle maree, l'inverno scorso più sordo della mente di un bambino, io corsi, e le penisole galleggianti non subirono mai il mio trionfo, la tempesta ha benedetto i miei risvegli in mare, più leggero di un turacciolo, ho danzato sui flutti, che sempre sospingono i corpi delle vittime per dieci notti, senza rimpiangere l'occhio ebete dei fari, più dolce che ai fanciulli la polpa di mele acerbe, l'acqua verde si infiltrò nel mio guscio d'abete, e mi lavò dalle macchie di vino bluastro e di vomito, disperdendo il timone. Ed allora mi sono immerso nel poema del mare, l'attescente infuso d'astri, divorando le acque verde e azzurro, su cui fluttuando, livido ed estatico, un annegato pensoso talora discende. Ho visto il sole basso, maculato di mistici orrori, illuminare lunghi coaguli violacei e, simili a degli attori di drammi molto antichi, i flutti che rotolavano in lontananza i loro fremiti di persiana. Ho sognato le notti verdi dalle nevi abbagliate, bacio che lentamente sale agli occhi degli oceani, le correnti di linfe sconosciute, il risveglio giallo e blu dei fosfori canori. Ho seguito per mesi interi i marosi che assaltano gli scogli come mandrie di vacche isteriche, senza pensare che i piedi luminosi delle marie potessero forzare i musi degli oceani affannati. Avrei voluto mostrare a dei bambini quelle orate fra le onde blu, quei pesci d'oro, quei pesci canori. Schiume di fiori mi hanno cullato mentre salpavo ed ineffabili venti a tratti mi hanno messo le ali. A volte, martire affaticato dai poli e dalle zone, il mare, il cui singhiozzo addolciva la mia fine, alzava verso di me i suoi fiori d'ombra dalla ventose gialle, ed io restavo come una donna in ginocchio, quasi isola. Ora io, battello sperduto fra i capelli delle baie e scagliato dall'uragano nell'aria senza uccelli, io di cui né i guardiacoste né i velieri avrebbero ripescato la carcassa ubriaca d'acqua, libero, fumante, sormontato da nebbie. Io che foravo il cielo rossastro come un muro che porti licheni di soli e catarri d'azzurro, squisita marmellata per i grandi poeti, io che correvo macchiato dalle lune, zattera folle, scortata da neri ipocampi, quando l'uglio faceva crollare e randellate i cieli ultramarini dei vortici infuocati. Ma davvero ho pianto troppo. Le albe sono strazianti, ogni luna è atroce e ogni sole amaro. L'acre amore mi ha gonfiato di torpori inebrianti. Oh, che la mia chiglia scoppi! Che io vada in fondo al mare, se io desidero un'acqua d'Europa e la pozzanghera nera e fredda in cui un bambino malinconico in ginocchio lascia andare una barchetta leggera come farfalla di maggio. Io non ne posso più. Onde, bagnato dai vostri languori, seguir la scia dei portatori di cotone né attraversare l'orgoglio delle bandiere e delle fiamme né navigare sotto gli occhi orrendi di tutti. Questo era Rimbaud. Rimbaud, il quale anche lui, continuiamo con questo piccolo cerchio poetico, chiamiamolo così, che ha seguito un po' le orme di Baudelaire, che ha seguito le orme di Baudelaire dando però una risonanza anche un po' diversa alla poesia, perché tutti e due facevano parte della cosiddetta cerchia dei maledetti, anche se comunque in periodi diversi. Baudelaire è stato un po' il capostipite, poi Mallarmé li ha formati e Mallarmé ha avuto, come ho detto già qualche volta, una storia particolare che non vi sarò qui a raccontare, con lo stesso Rimbaud, Rimbaud che, a differenza di tanti altri, e mi ricollego prima al discorso fatto di Genio, è stato uno di quelli che il Genio l'ha vissuto a pieno, a 360 gradi, in tutta la sua follia, perché a 24 anni Rimbaud è stato quello che ha smesso di scrivere perché testuali parole non aveva più nulla da dire, ha iniziato giovanissimo, a 16 anni, ha scritto poesie che ancora oggi si lengono a quell'età, ed è una cosa che fa riflettere, perché secondo me è anche contestualizzata ai giorni nostri. Io vado a pensare a un ragazzino dei giorni nostri, è chiaro, nessuno può, non tutti possono avere il genio di certi autori o di certe personalità, non parlo solo del mondo letterario, però pensare a 16 anni di scrivere poesie di questi temi, cioè il battello ebro che ho appena letto, una poesia esistenzialista, è stata scritta a 17 anni, e pensare all'esistenzialismo e quindi trasportarsi in questa barca, in questa nave, che quasi vive un po' tutte le fasi della vita, anche pensando a quello che poi poteva essere il futuro del nostro Rimbaud, quello che mi fa riflettere, è che come si può pensare alla fine, a 17 anni, se è appena iniziato forse il viaggio, siamo veramente agli albori, però ecco, questa è la stessa domanda che facevo prima, cioè non ci sarebbero geni se tutti si potessero porre queste domande così limitanti, anche sotto un certo aspetto. Il battello ebro è questo battello che osserva tutti i mari, osserva tutti i mari, si lascia anche trasportare, però poi alla fine, anche se sa che sceglie la strada sbagliata, la percorre fino in fondo, a costo di ribaltarsi e di perdere tutto. E per dimostrarvi, diciamo, il personaggio, fin qui analizzato, leggerò un'altra cosa che fa parte di una stagione all'inferno, ed è una tra l'altro delle parti secondo me più belle in assoluto scritte da Rimbaud in cui si parla non solo di poesia perché anche prosa e proprio per questo si differenzia poi da Baudelaire perché Rimbaud è riuscito a scrivere e ad unire l'aspetto della prosa con la poesia, quasi sempre. L'ha fatto in un secondo momento di vita, diciamo, a livello temporale, ma è sempre stato, questo è stato fatto dai 21 anni in poi, quindi veramente ristretto rispetto a una poesia di 17 anni. Un tempo, se ben ricordo, la mia vita era un festino in cui tutti schiudevano i propri cuori, scorrevano tutti i vini. Una sera ho preso la bellezza sulle mie ginocchia e l'ho trovata amara, l'ho ingiuriata. Mi sono armato contro la giustizia, sono fuggito. Streghe, miseria, odio. È a voi che è stato affidato il mio tesoro. Io riuscì a cancellare dal mio spirito ogni speranza umana. Su ogni gioia, per strangolarla, ho fatto il balzo silenzioso della belva feroce. Ho chiamato i carnefici per mordere, mordendo e morendo il calcio dei loro fucili. Ho chiamato i flagelli per soffocarmi con la sabbia, col sangue. La sventura è stata il mio odio, mi sono disteso nel fango, mi sono asciugato all'aria del delitto e ho giocato dei brutti tiri alla follia. Dei miei antenati galli ho l'occhio azzurro bianco, il cervello ristretto e la mancanza di abilità nella lotta. Trovo il mio modo di vestire altrettanto barbaro dell'oro, ma io non mi ungo i capelli di burro. Se avessi almeno dei precedenti in un punto qualsiasi della storia, di Francia, ma no, niente, mi sembra chiaro che sono sempre stato di razza inferiore e non riesco a capire la rivolta. La mia razza non si sollevò mai se non per saccheggiare, come i lupi con l'animale che non hanno ucciso. Mi ricordo la storia di Francia, chiese, contadini, il sangue pagano ritorna, lo spirito è vicino perché Cristo non mi aiuta dando la mia anima nobiltà e libertà. Ahimè, il Vangelo è passato, il Vangelo, il Vangelo aspetto Dio con ingordigia, sono di razza inferiore all'eternità. Eccomi sulla spiaggia, le città si illuminino la sera, la mia giornata è compiuta, devo lasciare tutto, non si parte, riprendiamo le strade di cui ancora bambino ammiravo il forzato intrattabile su cui si richiude sempre la garera, visitavo le locande, le camere ammobiliate che egli aveva consacrato col suo soggiorno. La noia non è più il mio primo amore, le rabbie, le dissolutezze, la follia di cui io conosco tutti gli slanci e le catastrofi, tutto il mio fardello è deposto, apprezziamo senza vertigini la grandezza della mia innocenza, non sono prigioniero della mia ragione, ho detto Dio, voglio la libertà nella salvezza, come raggiungerla? Ho inghiottito una bella sorsata di veleno, si è benedetto tre volte il consiglio che mi è giunto perché le viscere bruciano, la violenza del veleno contorce, mi deforma, mi atterra e muoio di sete, avevo intravisto la conversione al bene e alla felicità, la salvezza ed era solo una visione, di notte sussurravo silenzi, osservavo vertigini. Con Stagione all'inferno anche questa di mia sponte ho cercato di tagliarla per quanto possibile perché questa è veramente lunghissima, dura almeno una quarantina di pagine, fatta di poesia e prosa come avete potuto constatare, a parte l'invito a leggerla perché poi sono riflessioni molto autobiografiche da parte del nostro genio maledetto, ma la cosa che balza all'occhio è che se da una parte Baudelaire ha cercato di unire non dico la semplicità ma quella vita quasi effimera, quelle sensazioni effimere che passano nella vita di tutti i giorni con l'aulicità, la grandezza della poesia Rimbaud ha dato uno stampo prettamente invece simbolista e anche secondo me molto onirico alcune volte. Ci sono alcuni suoi passi appunto come il Battello Ebro che abbiamo letto prima che è una riflessione però basata sull'onirismo questo onirismo che poi a livello anche artistico generale possiamo trovare nelle opere dei surrealisti questo onirismo spinto questo onirismo quasi estremista sotto certi aspetti è interessante il parallelismo tra questi due autori per questo ho voluto leggere prima Baudelaire e poi Rimbaud ma non solo per una questione temporale e di organizzazione perché da una parte abbiamo colui che ha dato spazio a una nuova forma di poesia Rimbaud è proprio colui che l'ha trasformata del tutto la poesia l'ha trasformata del tutto anche appunto grazie a dei passi come Stagioni all'Inferno una stagioni all'Inferno è un qualcosa di rivoluzionario un qualcosa che non era presente nelle raccolte precedenti è un qualcosa che interrompe quella striscia temporale con il diretto passato per dare al futuro uno stimolo diverso un qualcosa di diverso dopo questa dopo questa ennesima riflessione noi ci andiamo a vedere il secondo video io vi riporto alla seconda puntata di Zanzara d'Inchiostro questo è Davide Volpe catapultato dal nulla un ascensore portò l'errante col fiato corto schiaffi ben assestati figurarono la violenza determinata come buia accettazione della mala condizione vivente se non fosse per il velo posto dinanzi all'occhio indagatore che cela la vera natura della rappresentazione se non fosse per il sipario che fa da garante alla finzione apparente se non fosse per la sabbia contorno maestoso dell'infinito deserto che ne sarebbe della folle condizione diveniente chiudendo gli occhi riesco a sentire quanto sia infinito il destino che reclama il suo spazio al di fuori del tempo che procede negando la possibilità che esista l'eterno e le vecchie foto sviluppate non sono meno reali di quelle presenti nell'iPhone 100.0 non ho bisogno di accarezzare un buco nero per srotolare dalla bobbina i fotogrammi esistenti il dramma è accettare di essere presenti uscire dall'incontrovertibile abbracciando il mendicante prostrato dinanzi al re che non sussurrando più all'orecchio parole di antichi maestri mi conduce gradatamente annientandomi il senso in quel nulla da cui non credo provengo teleprima canale 91 del digitale terrezza in streaming su www.teleprima.it ti tiene compagnia 7 giorni su 7 24 ore su 24 a partire dalla rassegna stampa della mattina il prima TG flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21 ma non solo pillole di cucina motori e migliori film italiani e stranieri dalle 21.30 da lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità politica cultura istituzioni musica intrattenimento e calcio per contatti chiama allo 0823 42 1717 o scrivi a redazione dg chiocciolateleprima.it una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla campagna un occhio attento su tutto ciò che avviene in città benvenuti su Notis quotidiano online di informazione nazionale e regionale focus sulla cronaca politica attualità cultura spettacoli e sport H24 ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su facebook instagram e youtube tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it sui delitti boschi quando l'inverno l'ombra passa solingo gemi recluso dalla soglia che questa tomba ha due che sarà il nostro orgoglio ahimè d'essenza soli di gravi fasci e ingombra sordo alla mezzanotte che il suo numero vano gettote salti inveia a non chiuderci io finché nelle fedeli braccia della poltrona l'ultima braccia schiari d'un guizzo la mia ombra chi brama avere spesso la visita non deve caricare di fiori la pietra che il mio dito solleva con lo sforzo d'energia defunta anima che trema fermarsi alla tua luce mi basta per riviver che alle tue labbra io beva il soffio del mio nome detto da una lunga sera quale in lui stesso l'eternità lo muta il poeta ridesta con una spada nuda il secolo tremante che non ha conosciuto della morte e il trionfo in quella voce inaudita essi in un viso il sulto come l'idra che ha udito l'angelo dare un senso più puro alle parole delle tribù gridarono al sortileggio bevuto di qualche nero intruio nel flutto senza onore se di terra nubi ostili o dolore la nostra idea non sa scolpendone un basso rilievo ornare la bagliante tomba di Po che almeno calmo blocco caduto da un cataclismo oscuro questo granito il limite mostri per sempre ai neri voli della bestemmia sparsi per il futuro la tomba di Baudelaire il tempio sotterrato diffonde dalla bocca sepolclare di Fogna che sbava melma e rubini un qualche idolo a nubi che bestiale dal muso tutto avvampato latra o che il recente gas l'olusca miccia che ingoia come si sa l'onte subire esso spietato accende un pube immortale che di fanale in fanale a volo sappiccia in città senza sera quale secco fogliame benedire potrà vanavente votivo sul marmo di Baudelaire commessa dentro il velo che di brividi assente la circonda posare l'ombra sua stessa tutelare il veleno per sempre respirando e di cui noi moriamo ogni giorno queste erano tre poesie racchiusa in una di Mallarmé quindi rimaniamo sempre molto vicini a Verlaine e a Rimbaud Mallarmé che tra l'altro fu apprezzato e non poco da Oscar Wilde Mallarmé ci racconta invece una poesia ancora più secondo me onirica ancora più elevata che aspira a quell'assoluto che però l'assoluto non diventa terreno attraverso la poesia come poteva succedere con Baudelaire ma l'assoluto rimane tale rimane quasi un qualcosa di ineguagliabile di irraggiungibile un qualcosa a cui si può ambire ma fino a un certo punto diciamo che la poesia di Mallarmé per esempio a differenza quella di Rimbaud che abbiamo poc'anzi letto è una poesia basata prevalentemente sul gioco anche armonioso c'è una certa armonia nonostante poi l'incidenza dei termini adoperati dal poeta francese siano molto duri a volte siano molto difficili anche di comprensione sia una poesia comunque prettamente ermetica sotto certi aspetti la cosa divertente di questo piccolo connubio fra questi tre poeti è che comunque c'è un filo conduttore e non è solo l'essere poeta maledetto perché quello è un'accezione che è stata data poi anche dopo a musicisti e quanti ne verranno ad esempio posso pensare a Bukowski qual anche lui è stato definito un maledetto ma rispetto alla poesia di questi tre autori che oggi stiamo di cui stiamo parlando brevemente oggi siamo in un contesto totalmente diverso Bukowski siamo in un realismo sporco un realismo crudo anche violento qui siamo comunque in una poesia più aulica che aspira a un io e ad un'essenza stessa molto più complicata molto più determinante sotto questo aspetto infatti Mallarme tra l'altro è stato uno dei più studiati non solo per il suo rapporto anche di amicizia con Paul Marie Verlaine ma anche perché appunto è riuscito a dare anche alla poesia il rima un significato molto pregno molto violento violaceo io userei dire quando pensiamo al colore violaceo che è un colore che in un certo senso urta quasi ecco la poesia di Mallarme potrebbe essere vista in questa sfaccettatura sotto questa lente di ingrandimento è un qualcosa che ti viene quasi buttata in faccia di violenza però è un qualcosa che ti vuole lasciare il segno ma non per ferirti non per farti del male ma semplicemente per farti ragionare per farti capire che anche noi oggi molto spesso quando pensiamo alla poesia pensiamo a qualcosa di inarrivabile di irraggiungibile che cos'è la poesia innanzitutto la poesia non ha un'accezione definita nel senso che può essere soggettiva può essere soggettiva come poi ogni cosa a livello artistico c'è chi considera appunto Leonardo uno dei più grandi artisti del mondo e c'è chi considera invece qualche artista dei giorni nostri sono tempi che vanno contestualizzati va concettualizzato anche appunto il concetto stesso di arte è totalmente diverso rispetto a parecchi anni fa sono cambiate molte cose a livello storico noi spesso a livello storico non riusciamo mai a contestualizzare e parlare anche di ciò che viviamo sulla nostra pelle e di ciò che abbiamo vissuto per arrivare poi a un periodo come il nostro a un'epoca come la nostra dove per fortuna tutti abbiamo la possibilità comunque di lanciare le nostre idee prima non era possibile una cosa del genere e le poesie di Mallarmé mi ricordano molto Bernini sotto certi aspetti Gian Lorenzo Bernini il quale anche lui parliamo lì di un genio inarrivabile aveva questa focosità nel proprio io nella propria essenza del proprio carattere questa focosità che poi l'ha portato alla non dico all'autodistruzione ma quasi ci è arrivato perché lì fu salvato dalla dalla chiesa perché la chiesa riscoprì in Bernini un talento troppo grande per essere spiegato però Mallarmé che a differenza di Bernini non viveva non viveva un periodo facile a livello storico e soprattutto culturale è stato un contesto totalmente diverso tant'è vero che Mallarmé anche lui non ha smesso di scrivere giovane come Rembo ma comunque ha ottenuto il successo che meritava solo in un secondo momento proprio perché questa poesia una poesia del genere che puntava a un senso mettiva delle ali per volare ali che non tutti possono avere non veniva apprezzata a metà dell'ottocento non veniva apprezzata e molto spesso veniva andava contro quelli che erano i canoni etici e morali della società di allora poi dopo le cose sono cambiate oggi questi autori vengono studiati vengono apprezzati in tutto il mondo hanno fatto la storia della poesia della letteratura in generale e questo perché vi ho portato questo esempio perché secondo me è lampante dovrebbe essere lampante agli occhi di tutti come le cose cambino in fretta come le cose cambino in fretta e per questo non bisogna mai secondo me cambiare la propria strada il proprio sentiero semplicemente per o giudizi altrui o della società o comunque di chi che sia perché solo il tempo dirà se la strada era giusta o meno e questa cosa non la possiamo giudicare noi ma potrebbe accadere dopo tanti tanti e tanti anni come è successo appunto a questi autori ma basta chiacchiere per questa sera più che altro vi voglio far vedere un altro video di un altro ospite che è stato con me precisamente la quarta puntata di Zanzara d'Inchiostro si lo so una memoria eccezionale non dimentico nulla questo è Vittorio Zollo noi ci rivediamo tra pochissimo ULTI RACINO l'USB rimbombati affondati fotte, rumori d'engine in fase rem, gutta cavat lapidem, everybody hurts per gli arrihem, si gioca a calze coperte cinquanta dem, scava scavo trapane dallangapo motore fischia fischia, H24 il fac di nastro trasportatore perchè il neppote può scegliere con la machine, il neppote può scegliere con la machine, a sienta la sera, a sienta la mattina, a sienta la cesta, a sienta in camera, in affezenza, Phantom of the Opera e tu vuoi variare, il pallone, la barra, la musica, la cinema, la mogliere di Nicole, il turista sbagliare, ma non lo puoi fare perchè hai una creatura da fuori alla scuola e ti fai un weekend che mi assaggia la schiena, ma è in odisseia perchè sei andata la sirena, 6 o'clock, io ho corto a cocco, controlli i numeri, usurrei una lotta, io non ho i vindi che sei morto, la vita è una ruota che gira storta, la ruota è una vita che la tiene un corpo, non tiene conforto, non tiene sciorta, a volte desideri che sei morto perchè il neppote può scegliere con la machine, il neppote può scegliere con la machine, il neppote può scegliere con la machine, è una serenca in dei vena di ruina, ti mozza gamba, ti stupro, ti sputo, puoi senti? stupido lavoratore, puoi senti? stupido lavoratore, è la machine, la tua stalker, non ti tocca e ti mantiene, non ti ferma ma ti trova, non ti vuole, non ti prende, non ti prende, ma ti indiova, tipo Cristo, maybe me non da retto, let it be, che qua croce la porta pure, ma fosse la machine, il vero Dio, nel nome del tornio, del petrolio, dell'alto forno e così sia, nel nome di forde e del sacro olio, salvezze sicure dell'anima mia, consuetudo est altera natura, periculum immora o latina fa paura, Wikipedia ancor di più che ci dà le citazioni per mischiare un po' le lingue e comporre le canzoni, ma questa non sfoghe le notte, perché la macchina non smette, chiama, chiama da londana, sette giorni a settimana, è la vita nelle fabbriche, la catena di montaggio, è con corchi nei raggi, ve la voglio ricordare, che noi qui facciamo poesia, è un po' di mattina, ma pure stasera a teleprima, il neppetto può si sciapare alla macchina. Bene, stasera abbiamo rivisto con piacere tre esibizioni avvenute qui a Zanzara d'Inchiostro, vi ricordo il lunedì in onda alle ore 21.30, sempre su Teleprima, e sono tre esibizioni che anche riascoltandole, rivedendole, possono comunque dare anche sensazioni diverse rispetto alla precedente volta in cui sono state ascoltate e viste, perché alla fine la grandezza secondo me della poesia in generale è quella di poter cambiare, anche come quando senti una canzone, una canzone una volta può darti una sensazione, quella dopo può cambiare, può cambiare e stravolgerti anche la concezione che avevi precedentemente, tant'è vero che molto spesso noi tendiamo a giudicare troppo spesso a impatto, perché poi è una cosa che ci impone un po' la società oggi, l'apparire, questo apparire costante che deve essere in un certo senso perfetto, non può essere leggermente sporco, leggermente infangato, perché sarebbe contro i canoni e i costumi della società stessa. Tempo fa, e vi parlo di un paio di anni fa più o meno, scrissi su una mia pagina che si chiama Madame Art, una cosa sui tre poeti che abbiamo analizzato, di cui abbiamo parlato questa sera, tre poeti che poi ho unito anche tre esibizioni dei nostri ospiti, perché in un certo senso Antonio sa il mio legame con Baudelaire e quindi l'ho voluto unire, ho fatto da tramite con questa figura, Davide in un certo senso per l'estrosità, per quasi questo continuo fuoco che arde mi ricorda un po' la personalità di Rimbaud, mentre Vittorio è legato, secondo me, al tema, diciamo, inebriante, non voglio dire fuoco, perché sennò sarei ripetitivo con Davide, ma in un certo senso questa continua marea che va con i riflessi della Luna sopra e mi ricorda molto Mallarmé, per questo anche questo è stato fatto di proposito. Ora vi vado a leggere questa cosa che scrissi e con cui chiudiamo questa decima puntata di Zanzara, ed è, non è una poesia, è una riflessione più che altro, è un voler dare volto a chi il volto l'ha avuto distrutto, l'ha visto distrutto dalla rabbia dei tempi, come la definisco io, quando il talento supera la comprensione. Chiedo scusa sin da subito per questo pensiero, questo flusso che scriverò. Ho capito di essere un maledetto all'età di otto anni quando lessi i fiori del male, ci capì ben poco, ho letto quel capolavoro altre otto volte, un mito, una leggenda che in cuor mio non poteva finire così. I maledetti sono stati poeti, artisti poi, che hanno cambiato la storia della letteratura, delle figure imprescindibili, ermetici, onirici, veggenti e simbolisti. Chiedo scusa perché so d'esser parte, in primis una delucidazione, il maledetto non è un'accezione negativa, l'aggettivo è stato associato alle vite dei presi in considerazione, il primo poeta maledetto vero e proprio è stato Charles Baudelaire. Poi il termine venne coniato da Paul-Marie Verlaine per simboleggiare una ristretta cerchia di poeti, quali Mallarmé, Corbie e Rimbaud, una figura tipica del romanticismo che ha modificato i canoni della società andando oltre. Una vita maledetta, uno stile provocatorio, antisociale, autodistruttivo e pieno di talento, del tutto incompreso. Una poesia di difficile lettura, se non impossibile, proprio perché a condurre era un io ultraterreno che sgretolava i sensi con immagini fortissime e molto spesso disarmanti. Alcol, droghe, sesso sfrenato, le soluzioni dei poeti qui in questione che guardavano una società che non esisteva probabilmente, perché passavano le serate a vagabondare, angoscianti, angosciosi, malinconici e sofferenti, testi pregni di anima. Anima che è racchiusa in quelle parole che poi alla fine ti mordono, ti iniettano veleno e ti portano sulla strada della perdizione. Una prigione in cui i poeti maledetti non potevano uscire perché erano essi stessi la condanna del loro talento. Di gran lunga superiore a tanti altri poeti, e permettetemi questa piccola provocazione, perché uno stile poetico violento, giudice di un giudizio mai dato, contro morale ed etica, la poesia come realtà superiore, come estensione dell'eterno per superare il dogma esistenziale della vita stessa, che è effimera. L'arte, tanto cara ai maledetti, come unica medicina, come esplorazione di un mondo ignoto, come ponte dell'anima. Arte come estasi sensoriale, quegli stessi sensi che venivano distrutti poi dalle loro poesie mescolati con altri in un turbinio di emozioni interiori, amanti della fata verde, dell'assenzio, che fu tra l'altro vietata a causa della concezione di allora, della società dell'Ottocento, in cui si pensava appunto che l'assenzio portasse alla follia. Un altro poeta maledetto, se così vogliamo definirlo, ci spostiamo in pittura, è Pablo Picasso, che agli albori del Novecento ha dipinto la bevitrice d'assenzio. Erano poeti assoluti, assoluti nell'immaginazione, assoluti nell'espressione, quasi un unicum della storia, una figura tragica, figlia del suo tempo. Tra i maledetti ci sono anche Van Gogh, se vogliamo dirlo, Morrison, Hendrix, Jimmy Page, Picasso, Reno Gaetano, Edgar Allan Poe. Anche anarchici, tra l'altro, questa era una cosa che li univa, liberi da qualsiasi imposizione sociale, ma l'anarchia non per quello che viene inteso al giorno d'oggi, cioè fare quello che si vuole. E anche Fabrizio De Andrè era considerato un poeta maledetto. Quindi la cosa poi si è espansa, è diventata più grande per questi poeti che erano amanti del teatro, delle opere nere, delle perversioni più oscure della mente umana, perché le perversioni fanno parte di noi, bisogna solo accettarle a volte. L'abisso da raggiungere con le proprie menti e i propri corpi, distruggersi come atto di coraggio e salvezza, perché non erano compresi. Forse lo saranno solo successivamente, lo sono oggi, non si sa domani, perché la loro vita terminerà nell'ombra di un represso desiderio di assolutezza, perché volevano essere troppo grandi, eterni, ma sapevano anche che non sarebbero morti lì, perché nella loro maledizione trovarono la peggiore delle fini possibili, tutti quanti. Un grido che ancora oggi chiede una giustizia sua, propria. Poeti maledetti immersi nelle tempeste interiori del genio, sregolati incandescenti, fiamme di infinito che abbracciano le prigioni di finito, e come disse Aristotele, e lo ripeto, perché l'ho detto prima, non esiste un grande genio senza una dose di follia. E con questo piccolo, piccolissimo sunto e diciamo omaggio a ciò che è stato fatto stasera, questo viaggio, attraverso la poesia anche, e ringrazio ancora con l'aiuto di chi è stato qui a Zanzara d'Inchiostro, ospite mio e non solo di tutta Teleprima, io vi auguro una buona serata e noi ci risentiamo e ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 21 e 30, sempre su Teleprima, canale 91, sempre con Zanzara d'Inchiostro. Grazie a tutti. Zanzara d'Inchiostro, siamo il tuono di un tempo che si è fermato a pregare.